Si parla di nanotecnologia, Napoli, quel settore della scienza che si occupa del controllo della materia che si misura con il nanometro, un miliardesimo del metro, e della realizzazione di dispositivi tecnologici che riescono a operare in tale scala. Nell'edificio della vola via mare del Molo Beverello, Napoli 2030, soluzioni per la crescita della blu e della green economy nel Mediterraneo, tra i relatori il presidente di vola via mare Salvatore Lauro e il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. Cosa di nuovo di rivoluzionario che riguarda il futuro e soprattutto i giovani. Può avere applicazione nel campo marittimo, cosa che ancora non c'è stata. C'è stata esclusivamente nel campo da riporto, mentre nel campo commerciale, quindi dei cantieri, non ancora. Avendo aderito a questa iniziativa anche dei cantieri storici napoletani come il Megaride, come Marine Tecnica, e soprattutto di Castellammare per il Diporto, abbiamo invitato i più grossi operatori e comunque i centri di ricerca, sia come università, sia come marina militare qui a Napoli, perché Napoli diventi un punto strategico di questa tecnologia per il futuro. Parlare di nanotecnologia però chiaramente saranno i governi a decidere le strategie sull'applicazione di queste tecniche. Si parla di nanotecnologia applicabile nei porti, i porti che come si sa quando entrano le navi portano un po' di inquinamento. Io direi che in attesa che i governi decidano le tecnologie future da applicare, i porti potrebbero adeguarsi con centraline elettriche di quando almeno le navi sostano nel porto per poterle farle collegare e quindi risparmiare tutto l'inquinamento dei residui che mettono fuori le loro ciminiere. Quindi noi siamo qua per discutere di questa cosa e vedere la loro applicazione in porti più green e più sicuri. Grazie a tutti.